amiche ed amici della lettura salve oggi con noi c'è chiara pozzati ciao fermati solo un istante per iscriverti al canale e attivare la campanella questo tuo contributo è fondamentale per me e per i miei ospiti grazie chiara benvenuta come stai ciao grazie grazie mille benissimo grazie senti chi partiamo dall'inizio chi è chiara pozzati allora diciamo che la mia infanzia nasce in mezzo ai libri io sono letteralmente cresciuta a pane e favole mi piace dire così perché i miei genitori avevano una libreria e quindi proprio sono cresciuta in questa giungla di carta tra questi scappali altissimi e angoli e scorci in cui io mi rifugiavo spesso a leggere seduta su questi scatoloni impolverati e quindi i libri fanno parte di me fin da quando ero molto piccola poi succede crescendo purtroppo in età adolescenziale che il negozio dei miei genitori deve chiudere e quindi ci portano via veramente tutto libri compresi e dentro di me inizia a maturarsi questo senso di di rivalsa di di voler avere dei libri tutti miei che nessuno veramente possa portarmi via per riempire di nuovo quegli spazi vuoti un po lasciati sugli scappali e così inizia un po la mia passione per la scrittura e oltre a questo sono anche una mamma sono un'impiegata e sono membro di una onlus che si chiama noi ci siamo san marino che si occupa di gestire casi di bullismo e cyber bullismo questo è un po per dare il quadro generale del chi sono io e cosa faccio poi ovviamente se ti va lo approfondiamo assolutamente anche perché ti anticipo nella mia scuola sono referente per il bullismo e il cyber bullismo quindi magari dopo una domandina della vorrei fare bellissimo chiara hai hai notato che i libri hanno quell'odore particolare simponibile se ti fa venire proprio la voglia di prenderlo e di leggerlo è per questo che io sono un po la nostalgica e amo tantissimo i libri fatti con la carta non sono così tecnologica ancora faccio un po fatica ad accettare la versione digitale ma ti dirò la digitalizzazione per tutte le scartoffe burocratiche a scuola ne abbiano un sacco quello se quello ci sta però un libro un libro è un libro non si può sostituire non lo so senti passiamo al tuo romanzo il tuo ultimo romanzo il sole sul caso delle dieci che cosa si nasconde dietro questo titolo intanto ce l'ho qui e sole sul caso delle dieci è un gioco di parole sole perché la protagonista si chiama maria sole e sole sul caso delle dieci nel senso del fare luce sul caso delle dieci anche nella copertina ci sono un po di messaggi nascosti a dire il vero mi piace proprio nascondere dei dei segreti già dal titolo e dalla copertina per per giocare un po con il lettore per vedere se li riesce a scovare anche nel corso della lettura approfondiamo un po questo sole sul caso delle dieci ci puoi raccontare una chicca legata al romanzo allora questo è un romanzo è il mio secondo romanzo innanzitutto e nasce in un periodo veramente drammatico della mia vita questo perché la scrittura per me è veramente una terapia è qualcosa che mi dà calore la ricollego alla mia infanzia i libri mi davano proprio questo senso di protezione ero circondata no da questa libreria altissima con tutti questi libri quindi per me scrivere è un rifugio e in uno dei momenti più drammatici della mia vita ho ripreso in mano carta e penna e mi sono lanciata su questo libro e che un libro che nasce proprio subito dopo la scomparsa di mio padre ed è un libro che infatti è dedicato a lui proprio perché lui da ex libraio amava soprattutto il genere thriller poliziesco anche per quanto riguardava le serie tv e quindi questo è un libro per cui io ho voluto omaggiarlo e infatti l'ho pubblicato proprio il 19 marzo che è la giornata nazionale della festa del papà e questo diciamo che è uno dei segreti che si nascondono dietro dietro questo libro e quindi insomma se ci sono un po di riferimenti sicuramente a a qualcosa del mio trascorso del periodo che stavo vivendo in quel momento senti i tuoi romanzi hanno tutti una protagonista femminile sì una specie di eroina no esatto donna forte risoluta perché questa scelta è perché un po per questo amore verso il femminismo in generale un po perché io stessa sono una persona che si sente di aver vissuto un po di ingiustizie e di essere caduta ed essersi rialzata diverse volte mettere nei romanzi proprio una protagonista che viva una difficoltà ma che riesca poi a superarlo comunque si impegni per superarla mi aiuta intanto dare speranza a me e poi è qualcosa che soprattutto conosco bene e quindi inevitabilmente in ogni libro ci metto un po del mio e questa è una delle caratteristiche principali che mi piace regalare ai miei libri cioè una protagonista appunto che non si abbatte di fronte alle difficoltà sto per dire una cosa e mi assumo totalmente la responsabilità delle mie parole il femminismo il femminismo è fondamentale studiare il femminismo a partire proprio dalle origini dalle suffragette anche se io lo sposterei molto più indietro abbiamo pochi purtroppo casi di grandi donne del passato l'imperatrice irene matilda di canossa giusto per citare due esempi ma il femminismo è un è un qualche cosa di cui la nostra società ha bisogno e qui non è una questione religiosa non è una questione è un po in generale c'è però una componente tossica all'interno del femminismo alcuni le chiamano le nazi femministe per me semplicemente un andare un po oltre le più che sacrosante richieste del femminismo tu che cosa ne pensi ti ringrazio intanto per aver sollevato questo questo diciamo problema tra virgolette nel senso che ad oggi infatti anch'io mentre dico di essere una femminista mi aspetto già che dall'altra parte ci sia qualcuno che proprio un po di non so di di fastidio rispetto a questa a questo termine questo perché appunto purtroppo come in tutte le cose ci sono gli estremisti e essere estremisti in tutte le cose è sempre sbagliato io mi ritengo una persona veramente molto oggettiva e obiettiva e il che significa che io non difendo una donna per partito preso se ha torto mi assumo la responsabilità delle mie colpe e cerco sempre di essere ragionevole come per esempio sulle mie pagine social io denuncio molto spesso la violenza sulle donne ma denuncio spesso anche la violenza sugli uomini perché esiste anche questa e questo significa essere obiettivi è una violenza di tipo diverso ma esiste questo non significa che il problema della violenza sulle donne sia un problema minore o uguale purtroppo è un problema maggiore questo per fare un esempio quello che succede è come abbiamo fatto l'esempio prima ci sono i vegani i vegani hanno degli ottimi presupposti combattono una battaglia che veramente giusta secondo me nonostante io non l'appoggi nel senso non la non la sposi perché io per prima non riesco veramente per quanto ho provato anche nella vita di essere vegetariana faccio fatica ad essere totalmente però le appoggio perché fanno qualcosa di utile non solo per loro stessi ma anche per il pianeta in cui viviamo tutti però ecco certe volte ci sono degli delle persone che diventano estremiste e il troppo stroppia cioè imporre le loro idee agli altri con della maleducazione con della violenza con dei toni arroganti non ti rende una persona migliore dell'altro e quindi secondo me ci vuole equilibrio in tutte le cose se vogliamo essere rispettate come donne ad essere messe al pari dell'uomo bisogna che per prima iniziamo a rispettare gli uomini questo consapevole che comunque siamo ancora molto indietro rispetto a loro lo si fa si lotta per questo ma sempre con molto rispetto perché se vogliamo ottenerlo dobbiamo comunque sempre non dimenticare non dimenticarci di portarlo noi per prima agli altri concordo anche perché non solo si rischia di buttare all'aria i progressi e i risultati raggiunti ma c'è anche da dire che l'estremismo non paga mai io dico sempre gli studenti ragazzi se la storia ci insegna qualcosa è che gli ismi sono pericolosi esatto ti faccio un'altra domanda spero di non essere cattivo su questa domanda ma te la faccio attualmente vedo nella politica italiana finalmente due donne forti una da un lato e una dall'altro giorgia meloni per la destra la schline per la sinistra e ti parlo con molta onesta intellettuale sono contento che i capi dei due partiti attualmente più importanti sono due donne che veramente sono belle toste il resto della politica non lascia un po andare non è un discorso politico è un discorso del vedere finalmente una donna presidente del consiglio anche in italia ed è bello vedere una donna a capo di un partito il pd che fondamentalmente ha sempre fatto battaglie il problema forse dai salotti e non dalle piazze tu che ne pensi ti ripeto non è un discorso politico sentiti libera anche di non rispondere assolutamente risponderò ad ogni domanda che tu mi parai a costo di risultare il più neutra possibile perché mi piace sempre davvero molto confrontarmi su tutto su quello che non so solitamente al massimo ti dirò guarda preferisco non so rimanere il più neutra possibile giusto perché parlare di quello che non si sa secondo me non è non è corretto è controproducente comunque riferito al tuo discorso sì sono contenta finalmente di vedere delle donne al potere anche questo su questo eravamo molto indietro rispetto a molti paesi di tutto il mondo anche quello che mi piacerebbe vedere e anche qui cercherò di essere il più neutra possibile è vedere delle donne che davvero combattono per i diritti delle donne perché circoscrivere circonnavigare il diritto della donna cercando di far passare qualcos'altro per giusto quando in realtà si sta solo raggirando il problema non risolve il problema quindi sì sono contenta di vedere delle donne mi piacerebbe però davvero che si parlasse dei problemi delle donne che si facesse davvero qualcosa per risolverli e non avere delle donne al potere che però facciano ancora una volta le portavoci degli uomini e del volere degli uomini ecco questo mi aspetto concordo io spero spero diciamo nel bene o nel male perdonami ma spero che queste due rappresentanti al loro modo anche del femminismo portino avanti le proprie battaglie in autonomia senti avrei mille altre domande da fare se gli altri spunti da only fans e quindi diciamo questa croce delizia mo delle delle donne alle questioni transgender però prendo le redini in mano e riporto il discorso ok al nostro al nostro romanzo sì chi è maria sole raimondi esiste nella finzione del romanzo e esiste nella realtà maria sole raimondi allora no in questo caso in questo libro i personaggi sono praticamente totalmente inventati a differenza del mio primo romanzo e quello che c'è di vero sono alcuni piccoli dettagli alcuni piccoli particolari come dicevo prima sicuramente maria sole mi rispecchia nell'essere una donna che in un momento di risperazione decide di mettere sul tavolo tutto di mettere in gioco tutto e di giocarsela fino in fondo senza avere paura insomma di rischiare e questo sicuramente è una cosa che ho in comune con maria sole o in comune con maria sole anche il il modo in cui lei ama il modo in cui lei si butta nelle cose nel lavoro la passione che dedica nel fare quello in cui crede questi sicuramente sono tutti tutte caratteristiche che mi rispecchiano sicuramente molto invece dall'altro lato abbiamo amedeo verisi perché amedeo nella realtà nella finzione del romanzo ed esiste nella realtà e amedeo verisi è un investigatore che ha un passato che lo tocca notevolmente tra l'altro con con il killer della storia ed è il coportagonista di questo thriller insieme a maria sole inizieranno a dare la caccia al killer delle 10 tra i due inizierà anche una sorta di collaborazione non solo lavorativa ma anche un'intesa soprattutto sentimentale no non è nessuno nella realtà è un personaggio totalmente inventato che ho inventato di sana pianta quindi in realtà lui non lo posso ricollegare effettivamente a qualcuno tu scegli bologna come sfondo per lo svolgimento dell'arco narrativo la mia domanda è questa bologna rappresenta un po l'utile sfondo per per lo sviluppo dell'arco narrativo oppure c'è qualcosa di più profondo è legato a te beh bologna è casa mia è la città in cui sono cresciuta ci sono tutti i miei ricordi e ho scelto bologna perché anche qui in quel momento in cui scrivevo avevo bisogno di rassicurazioni proprio perché ti spiegavo prima che era un momento molto drammatico per me e quindi ho cercato di aggiungere nel libro alcuni particolari che mi dessero calore e sicurezza e quindi ho scelto di giocare in casa ho scelto di scrivere proprio di bologna senti voglio aprire una piccola parentesi prima di farti prima di passare alla chiara scrittrice sì tu hai firmato la prefazione per un altro volume e l'autore ha firmato la tua prefazione è vero hai scoperto hai scoperto l'altarino allora io e io e francesco siamo sia compagni di vita che scrittori stiamo parlando di francesco talarico che ha firmato la prefazione del mio libro solo sul caso delle dieci e che io e che tu hai già intervistato certo ovviamente e infatti sul suo libro viceversa si potrà trovare la prefazione della fine dei 20 anni scritta da chiara pozzati ci siamo interscambiati ruoli è che non aveva detto ma io lo so che lui parla ma infatti sai che mi arrabbio sempre con lui perché gli dico io parlo sempre di te tu cerchi sempre di fare il vago ma non lo so perché e tra l'altro ti dirò anche un'altra cosa che immagino che sicuramente lui non ha detto adesso faccio un mega spoiler stiamo scrivendo un terzo libro insieme a quattro mani già vi faccio l'invito e sarà un'intervista doppia benissimo la mia domanda è questa molto semplice un autore o un'autrice è molto gelosa dei propri romanzi dei propri lavori anche se uno dei miei libri preferiti q all'epoca scritto da un collettivo che si faceva chiamare l'uterblissé e che adesso si fa chiamare coming mi è piaciuto molto e ho faticato veramente a trovare a distinguere le diverse mani voi avete scelto un'opzione diversa avete firmato la prefazione l'uno dell'altra però è comunque l'intervento di una persona esterna ora al di là diciamo dei rapporti che come l'hai presa cioè ma guarda a per quanto riguarda il suo libro io mi sento un po madrina perché lui me l'ha dato in mano col cuore dicendo questo è il libro che io ho scritto sei la prima persona che lo legge devi essere totalmente spietata e sincera e so che lo sarai cioè nel senso io non ho la pretesa di diventare uno scrittore se tu credi che questo lavoro non sia valido io avevo già pubblicato un libro quindi più o meno sapevo un po' no e io in realtà guarda quando l'ho lessi c'è proprio mi rimasi colpita perché non mi aspettavo veramente che lui avesse tutto questo talento mia mia proprio ma te lo dico veramente di cuore con la più sincerità totale mi ha piacevolmente colpita e l'ho spronato tantissimo e così ha fatto lui poi con con questo libro che è voluto essere proprio il primo a leggerlo e ha detto ti prego falla scrivere a me la prefazione non avevo dubbi che avrebbe poi scritto qualcosa di insomma è coraggiante e così è stato ma ti devo dire la verità scrivere un libro a quattro mani invece è una fatica una fatica grande perché un conto è dire scrivo una prefazione cioè do una veloce lettura di quello che insomma il lettore potrà trovare scusa la ripetizione nel tuo libro ma andare a decidersi concordarsi su quello che dovrà essere un libro dall'inizio alla fine è veramente difficile e non ti nego che molte volte abbiamo pensato proprio di abbandonare il progetto perché sai magari parte la discussione no allora così no cosa in realtà però ti devo dire alla fine con tanta fatica sta venendo un lavoro secondo me veramente grande i capitoli sono alternati parlo del nuovo libro c'è il punto di vista maschile il punto di vista femminile in questo modo nessuno poteva esatto nessuno poteva mettere becco sul lavoro dell'altro e questo è stato il modo perché ognuno ha il suo stile ognuno ha il suo modo di vedere le cose è chiaro che non si può imporre all'altro la propria idea dimmi la verità è stata una buona idea perché qui c'è una saggezza femminile dietro questa scelta del compromesso guarda in realtà è nato per caso io avevo il covid ero a casa non potevamo vederci perché non abitavamo ancora insieme quindi lui è partito dicendo dai scriviamo un libro insieme io ti mando un capitolo tu mi rispondi mandandomi il tuo e da lì è partita questa cosa e abbiamo iniziato a palleggiarci il libro tra i capitoli e poi sì all'inizio era tutto molto bello poi andando avanti è diventato difficoltoso però dai ce la stiamo facendo lo stiamo portando a termine io chiudo qui la parentesi così ho l'opportunità di intervistarvi di farvi la doppia intervista per la prossima pubblicazione senti chiara ma tu che tipo di scrittrice sei sei una scrittrice che si abbandona totalmente al momento onirico oppure sei una scrittrice di quelle che creano metodiche che creano trame sottotrame le schede dei personaggi un po alla profiler dell'fbi occhi altezza gusti preferiti le patatine le preferisce fritte o al forno è un po tutte e due in realtà nel senso che non ho degli schemi prefissati quando scrivo scrivo proprio quello che mi viene in quel momento mi lascio guidare da un'idea e cerco di proprio spolparla di approfondirla e poi mi lascio un po guidare a volte torno indietro se mi accorgo che comunque non è ciò che mi aspettavo mi rimetto in discussione cerco di approfondirlo però insomma diciamo che non ho un metodo vero e proprio mi lascio proprio guidare dall'emozione che vivo in quel momento nello scrivere senti tu hai una routine di scrittura nel senso dedichi tutti i giorni una parte del tuo tempo anche quando magari non sei ispirata fai altri tipi di lavori sul sulla bozza oppure dedichi solo quel momento di quella fase guarda io se potessi scriverei tutti i giorni e tutto il giorno senza mai stancarmi veramente perché proprio è la mia vocazione ci ho messo un po per capirlo cosa volessi veramente diventare da grande dal primo momento in cui l'ho capito so che veramente quando si dice fai il lavoro che ami non lavorerai mai un giorno solo della tua vita per me io veramente sarei in grado di scrivere tutto il giorno senza mai perdere l'ispirazione però al momento diciamo che non è il mio impiego principale spero che un giorno lo possa davvero diventare però sì ecco diciamo che non avendo avendo poco tempo per poterlo fare cerco di ritagliarmi degli spazi e quindi il che vuol dire sono in grado anche di scrivere aprendo le note del telefono e mettendomi in fila alle poste scrivendo degli appunti dal telefono perché proprio quando mi prende la vena da scrittrice insomma cerco di farlo il prima possibile perché avendo insomma tutti una memoria a breve termine si rischia poi anche di perdere quello che volevamo dire in quel momento a guarda io devo benedire google calendar perché se tutto lì sopra veramente anche se non fai compiti in classe segno tutto lì infatti certo capisco bene accelerano la cronologia e capisco bene si chiara qualche volta uno scrittore ha il famoso soffre del famoso blocco dello scrittore la pagina bianca che non si vuole riempire o lo schermo bianco che uno diceva beh non si riempire uso per abbronzarmi ed è diventa quasi un'ossessione a volte può pure degenerare a te è mai capitato di soffrire del blocco e quale consiglio daresti a chi ci sta ascoltando e si trova in questa situazione guarda per me la cosa veramente più efficace allora quello che a me succede intanto rispondo alla prima domanda che hai fatto è soprattutto quando leggo di essere distratta accorgermi di essere distratta e di pensare a tutt'altro perché magari troppo i pensieri in quel momento che non mi fanno concentrare nella lettura e quindi mi rendo conto di essere andata avanti con le pagine proprio non aver capito assolutamente niente quindi mi fermo che sia per quanto riguardi insomma il leggere o lo scrivere mi fermo e se posso mi alzo e faccio quattro passi veramente per me camminare magari anche con un po di musica nelle orecchie mi libera la mente io tutti i miei racconti e strutture dei romanzi più intensi più dettagliate mi sono venute in mente mentre camminavo è proprio qualcosa che mi aiuta a riordinare i pensieri io quando i pensieri incasinati sono molto poco come dire eco sostenibile perché salgo sulla mia vecchia casa che me ne vado un po anche prima che passerò all'elettrico però al mondo belle così sì allora ho una domanda relativa però al tuo precedente romanzo tu hai organizzato numerosi eventi che non solo legate al romanzo in sé ma legate a una tematica particolare la violenza sulle donne ne abbiamo parlato prima che cosa hai fatto nello specifico cioè un attivista femminista tossica che cerca di sensibilizzare l'elemento maschile e come si muove che cosa organizza come certo beh innanzitutto ho scritto un libro e quotidianamente sulle mie pagine social condivido informazioni cerco di sensibilizzare sul tema si cerca di un po scorporare le notizie che vengono date ne discuto anche con quelle persone cerchiamo di capire eccetera cerchiamo un po di sensibilizzare con le coscienze e poi ho fatto delle collaborazioni proprio con il comune dove risiedo che il comune di sala bolognese nei quali con i quali proprio ho organizzato in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che il 25 novembre degli eventi il primo è organizzato proprio anche con delle associazioni l'associazione di petto l'associazione per la quale collaboro io l'associazione uddi unione donne italiane collaborazione con loro ognuno ha dato un po il suo spunto abbiamo organizzato questo evento e poi ho presentato anche il mio libro quest'anno invece più recentemente ho collaborato con la polisportiva di sala bolognese in particolare con la real dojo sala bolognese che si occupa di eh fornire corsi per l'autodifesa quindi ho divulgato anche questi video in cui io per prima mi mettevo alla prova con questi istruttori eh che insegnavano proprio a difendersi ho partecipato attivamente li abbiamo portati all'evento e abbiamo fatto questo mix di lezioni di autodifesa miste al ehm alle letture del mio libro sempre in collaborazione con il comune di sala bolognese e e quindi mi piace mixare un po' tutte le varie eh opzioni per cercare di dare anche delle soluzioni cerco anche soprattutto questo cioè di parlare eh della denuncia di parlare di determinate cose che possono insomma essere essere utili quando noi parliamo di violenza sulle donne eh tendiamo ad identificarla uomo fa del male alla donna ma la violenza sulle donne viene a volte fatta anche da donne su altre donne eh per vari motivi eh non solo uno pensa subito ah il sentimento l'amante del marito no non è per quello non è solo per quello in quel caso come come vi muovete? Allora eh si parla di femminicidio eh quando una donna viene uccisa eh per il fatto di essere considerata un oggetto di proprietà inferiore in questo caso più notoriamente all'uomo quindi quando c'è un delitto passionale in questi casi diciamo si parla proprio di femminicidio nel caso in cui sia una donna ad uccidere un'altra donna ehm sicuramente c'è anche questo poi dipende il motivo per cui lo fa nel senso eh se è un motivo di tipo passionale o comunque adesso non so come vengano catalogate effettivamente nella nella linea degli omicidi questo tipo di casi questi tipi di casi eh c'è da dire che comunque è sbagliato uccidere non dovrebbe essere fatto in nessun caso sia da parte di un uomo che da parte di una donna come ci sono delle donne che uccidono gli uomini il problema per il quale io mi batto è che ad oggi in Italia siamo nel 2023 e parliamo dell'Italia che è un paese comunque che non si colloca in fondo alle liste dei paesi sviluppati muore esatto muore una donna ancora ogni tre giorni e muore e non fa differenza il suo ceto sociale eh la sua religione i suoi hobby il nord e il sud non fa differenza ogni tre giorni in Italia muore una donna per mano di un uomo eh che sia un fratello che sia un padre un amico un fidanzato un collega questo succede e ogni tre giorni pensare che ci sia una donna che perda la vita per me è qualcosa di inconcepibile nel paese dove vivo eh per cui c'è ancora tanto da lavorare tanto da fare sono state introdotte delle nuove leggi ma non è abbastanza perché purtroppo è un problema che non c'è una percentuale che non va calando rimane stabile negli anni e quindi vuol dire che c'è ancora tanto lavoro da fare il fatto se qual è chiara e di nuovo mi assumo la responsabilità di ciò che sto per dire che non c'entra nulla penso sia un problema generazionale nel senso la generazione che è attualmente al governo in generale i nostri rappresentanti se andiamo a prendere l'età media non voglio esagerare ma hanno l'età dei nonni dei dei miei studenti e io lavoro alle scuole medie diciamola alla quindi non lo so certe dinamiche probabilmente proprio a livello culturale che non entrano in testa secondo me è proprio un problema di patriarcato di maschilismo e come ti parlavo prima ok mettiamo una donna al governo però deve avere una concezione più aperta e femminista perché altrimenti se mi metti una donna se mi metti un uomo patriarcale maschilista travestito da donna a comandare non mi risolvi il problema c'è bisogno di parlare seriamente di questo ripeto sono state fatti delle leggi più recentemente è stato introdotto il codice rosso si parla del reato del revenge porn che prima non esisteva ancora andando un po' più indietro è stato introdotto il reato dello stalking qualcosa viene fatto però non è abbastanza ci sono ancora tante falle nel sistema che bisogna aggiustare perché i numeri parlano chiaro chiara prima ti ho chiesto violenza tra donne anche tra ragazze perché tu sei membro di una onlus molto importante di san marino che noi ci siamo san marino si occupi di bullismo e cyber bullismo esatto e nella mia scuola io sono il referente per il bullismo il cyber bullismo quindi entrambi conosciamo purtroppo devo dire perché sono due forme di violenza entrambi conosciamo questi due fenomeni e come operate voi con le scuole allora noi in qualità di associazione accogliamo le richieste dei ragazzi e delle ragazze che hanno bisogno di comunicare con noi di aiuto e li mettiamo in contatto a nostra volta con un team di professionisti che può essere una rete di psicologi che può essere una rete di avvocati nei casi più gravi perché oltre al bullismo e cyber bullismo ci occupiamo anche di cose un po' più gravi come gli abusi eccetera eccetera e noi siamo il primo punto d'ascolto che trovano questi ragazzi quindi vengono da noi si aprono ci raccontano quali sono i loro problemi noi cerchiamo proprio di essere un ancora di salvezza un supporto per loro e poi se c'è bisogno nei casi più gravi li mettiamo appunto in contatto con questi professionisti e quindi sì credo che sia un problema ahimè come tu insomma lo saprai bene perché a tua volta sei nel campo ahimè questo è un problema molto attuale che si espande ancora di più dal momento in cui sono presenti social e quindi c'è non più solo il bullismo vero e proprio ma anche un ramo nuovo che si chiama cyber bullismo che è quello che si nasconde dietro i social ma che ahimè miete ancora miete anch'esso tante vittime sai mi riflettevo con una collega un po di giorni fa il bullismo in fondo c'è sempre stato sì che è stato finalmente etichettato catalogato e diciamo messo in messo vicino a una serie di azioni che possono essere anche molto forti si va lo ribadiamo anche a livello penale quindi perché quando c'è violenza non c'è una questione non è un reato che rientra nel codice civile ma va nel codice penale il cyber bullismo invece al di là diciamo dello strumento che magari 30 anni fa non c'era mi riferisco allo smartphone i social 15 anni fa i social non erano così penetrati all'interno proprio della vita quotidiana così come i telefoni 15 anni fa non me li ricordo non erano come questi sì sai io come la percevo come la sensazione che ancora il web in generale sia percepito come qualcosa di fittizio vabbè l'ho fatto o scrivo questa ingiuria scrivo questa questa cosa e non a caso poi il reato di diffamazione a mezzo stampa non è stato depenalizzato se fatto tramite i social per l'effetto virale perché a quel punto può raggiungere veramente un pubblico e ci sono poi ci sono poi dei casi che non sono affatto edificanti mi viene in mente uno dei più famosi recentemente la canzone fatta da shaquille in risposta a piqué c'è lì voglio di siamo veramente di fronte a una forma di cyberbullismo a livello mondiale perché al di là proprio della delle visualizzazioni fatte dalla sua canzone è proprio nella chiamiamolo canale principale poi ci sono stati tutti i vari balletti tic toc e io li ho fatti vedere ai ragazzi gli ho detto guardate che questa è una forma di cyberbullismo perché poi viene presa una qualcosa di personale privato qualcosa che sarebbe dovuto rimanere all'interno e viene portato fuori e poi vedi anche quando si scontrano risposta di piqué contro risposta di shaquira ma i numeri non erano assolutamente paragonabili e si ricollega un po anche alla questione dei leoni da tastiera cioè a volte a me dispiace ammetterlo ma siamo noi adulti che diamo il cattivo esempio ai ragazzi certo in tutti i casi è così infatti io lo dico sempre il bullismo nasce in casa dalle famiglie perché se tu sei il primo genitore abituato ad andare fuori col proprio figlio o figlia e commentare le persone che ti passano di fianco tipo ma guarda quello guarda quella lama come vestita insomma con commenti dispregiativi per fare un esempio banale o non lo so avere questo atteggiamento verso i più deboli di superiorità di questo atteggiamento da come per schernire noi più deboli o anche semplicemente le persone che ti stanno intorno e che è e che sono diverse da te perché quello che fa il bullismo è la paura della diversità schernire il diverso siamo tutti diversi ognuno a suo modo alle sue particolarità e non è da meno rispetto a qualcun altro quindi bisogna secondo me innanzitutto imparare dentro le mura domestiche il rispetto verso gli altri perché non siamo i padroni del mondo e questo deve avvenire in casa già da subito anche il bullo è diverso non a caso spesso il bullo nasconde delle insicurezze la paura di non essere accettato dal gruppo e quindi si impone con la forza certo c'è sempre un perché dietro qualsiasi cosa ovviamente non lo giustifica farlo però sì sono assolutamente consapevole che dietro questo atteggiamento aggressivo in realtà ci sia un'arma di difesa da qualcosa di esterno chiara tu all'interno della onlus hai una rubrica giusto sì la rubrica sogni nel cassetto esatto esatto mi spieghi un po sì io nell'onlus oltre a gestire un po le pagine social mi occupo di intervistare anche i ragazzi e le ragazze giovani diciamo in età adolescenziale circa ma abbiamo intervistato anche persone famose qualche vip ad esempio che hanno parlato del bullismo intervisto i giovani perché voglio portare alla luce i loro sogni nel cassetto per farli credere nei loro obiettivi perché secondo me la vita a volte crudele però quando ci si aggrappa un sogno è tutto più leggero questo non perché bisogna stare con i piedi per aria ma perché quando si perde la strada porsi degli obiettivi sani da raggiungere nella vita è sicuramente qualcosa che ti salva e quindi mi piace fare questo aiutare i giovani spronarli se hanno un talento a chi piace cantare chi piace ballare chi sogna di recitare studiare quello che vuole io gli intervisto come tu stai facendo con me in questo momento e li divulghiamo sulle nostre pagine social oltre a questo c'è proprio la rubrica dei sogni che si chiama racconta il tuo sogno a chiara dove chi vuole può lasciarmi proprio scritto il suo sogno in maniera anonima e io lo riscrivo in maniera romanzata ho anche un cassetto dei sogni che è praticamente una scatola che porto con me a tutte le presentazioni dei miei libri in presenza che appoggio sulla mia scrivania sul mio banco di quel momento e chi ha voglia mi lascia il biglietto scritto col proprio sogno e io me li rileggo a casa e poi li riscrivo ed è veramente sempre una grande emozione rileggerli Un sogno nel cassetto di Chiara? Quello più grande di tutti è diventare una persona influente ma non nel senso del termine come si intende oggi cioè la parola influencer ragazzi secondo me è una parola veramente importante è solo che adesso è stata un po' travisata ha perso il suo bello io vorrei essere una persona influente cioè riuscire a cambiare le coscienze riuscire a lasciare un segno riuscire a fare qualcosa di buono a dare l'esempio per quel piccolo che posso fare insomma nel mio piccolo attraverso gli eventi contro la violenza attraverso i miei libri aiutare a cambiare qualcosa questo per me sarebbe un sogno riuscire a dire una volta arrivata alla fine dei miei giorni se sei riuscita a fare qualcosa di buono la tua presenza qui non è stata inutile sarebbe la cosa che veramente mi darebbe la felicità maggiore Senti Chiara tu prima hai parlato di VIP no? Very important people People sì i VIP della tv il cinema esatto però non lo so i social secondo me hanno un po' frantumato quest'immagine granitica del VIP perché tu poi hai parlato dell'influencer del tuo sogno diventare un'influencer nel senso di impattare una persona influente fondamentalmente è l'antitesi del VIP il VIP è raggiungibile mentre la persona influente è molto raggiungibile tu hai parlato dei firmacopia fondamentalmente degli incontri con i ragazzi proprio dell'interazione meravigliosa perché tu raccogli i sogni dei ragazzi e li trascrivi sì è esattamente all'opposto dei VIP esatto ti faccio quest'ultima domanda ma secondo te ha ancora senso parlare diciamo di VIP e di influencer perché Amadeus nell'ultimo Sanremo ha aperto il suo profilo Instagram in diretta non ce l'aveva quindi lui VIP ha fatto una cosa da influencer no? sì secondo me sì la linea è un po' sottile nel senso che adesso se sei VIP nella maggioranza dei casi sei sicuramente anche hai sicuramente un profilo che nella maggioranza dei casi non è neanche gestito da te stesso c'è qualcun altro che a sua volta lo gestisce per te quello che mi sento di dire a riguardo è che adesso influencer vuol dire tutto e niente cioè influencer è una persona che probabilmente riesce ad avere un grande seguito ma purtroppo nella maggioranza dei casi senza fare niente di eclatante cioè abbiamo visto persone raggiungere un successo enorme senza saper parlare l'italiano che ha scritto libri non faccio nomi o riferimenti a persone o cose però insomma con grandi testate giornalistiche ha fatto delle interviste con grandi case editrici ho pubblicato dei libri parlo del mio campo e quando in realtà di fatto che cosa fai nella vita? cioè fai delle sciocchezze davanti a una telecamera e però purtroppo ha un seguito enorme e a me queste cose un po' fanno incavolare nel senso che è vero che ci vuole leggerezza anche nella vita ci piace ogni tanto guardare del trash ma va bene io questo lo accetto però secondo me bisognerebbe dare dei meriti veramente alle persone che tutti i giorni si fanno il mazzo per cercare di lasciare un segno di cambiare le cose anche per gli altri per chi non ne ha voglia secondo me ci vorrebbe un po' più di meritocrazia tutto qui Quali sono i tuoi progetti per il futuro Chiara? I miei progetti per il futuro? Eh beh io mi auguro di continuare a fare quello che faccio e di farlo più forte di prima ogni giorno perché davvero so che ho tante energie da volere impiegare in quello che faccio e quindi spero di averne sempre la possibilità Io ricordo a chi ci sta seguendo che Il Sole sul caso delle 10 edito da Edizioni We è acquistabile direttamente online trovate il link in descrizione da Amazon.it ma se possibile ordinatelo nelle librerie perché le librerie al di là che è bello proprio andare in libreria e magari ne approfittate per comprare un altro libro anche ma se volete il libro di Chiara Pozzati ordinatelo fatelo ordinare in libreria perché ne vale veramente la pena Chiara io ti ringrazio di cuore per il tempo che ci hai dedicato e spero di poterti rivedere insieme con l'altra metà del cielo per la prossima uscita sì va bene volentieri volentieri ti terremo aggiornato un saluto ciao Chiara grazie grazie mille ciao un abbraccio ciao